Le decisioni sono una cosa seria, il decisionismo è una postura, è un alibi preventivo per chi poi alla fine non decide, se vogliamo fare l'elenco delle decisioni che è capitata a me di prendere, possiamo fare l'elenco, se erano più nette o meno nette di quelle che si stanno prendendo adesso, però non ho mai pensato di insultare i riformandi, mai, il viso deve essere amichevole, chi governa sono tutti figli suoi, tutti, anche quelli con cui non è d'accordo e se perdiamo di vista questo concetto in un momento di difficoltà è enorme per questo Paese, non sottovalutiamo il tema sociale questo Paese, abbiamo visto i dati dello Svimes per il mezzogiorno in queste ore qui, non sottovalutiamolo e cerchiamo di, adesso tocca al PD, il consenso c'è, c'è un governo, è il nostro governo, cerchiamo di ragionare, di affrontare le nostre responsabilità, consenso di responsabilità. Ecco, lei ha sempre detto che il PD deve essere un partito democratico riformista. Bisogna rispondere al consenso di responsabilità.